Dunque, una breve presentazione di me e poi entriamo nel vivo dell'argomento di questa chiacchierata. Io sono Francesco Grassi, socio effettivo del CICAP da tanti anni, mi occupo di diverse cose, in particolare ho fatto anche un'incursione nell'ufologia, da lì sono partito per i cerchi nel grano, ho fatto anche cerchi nel grano, nel campi, ho studiato diverse cose, sistemi di credenze e ultimamente faccio un'incursione nel fenomeno che ho non, ma questo non è il punto di discussione. Vi presento invece l'ospite di quest'oggi che è Giuseppe Stilo che ho qui alla destra, quindi farei un applauso innanzitutto a Giuseppe e quello di cui parleremo oggi è questo libro che fa parte dei quaderni del CICAP, Alieni ma non troppo, guida scettica all'ufologia. Allora, due parole su Giuseppe per non sbagliare, quindi ovviamente è un esperto di ufologia e anzi, una parola che mi piace è storico dell'ufologia, che non è che si sente così tanto, parlo io poi ti lascerò la parola, perché anche questo è qualcosa che si coglie in questo libro che ovviamente vi consiglio, è un approccio storico al fenomeno dell'ufologia. Ha scritto sei volumoni noiosi su tante cose, è sempre legato all'ufologia, ha indagato diversi casi, alcuni difficili da risolvere, ma hanno risolti tanti. Mi diverte citare il discorso dei dischi volanti nazisti, sapete c'è anche il mito degli ufo nazisti e le superarmi sviluppate dal Terzo Reich, ma qui divaghiamo ancora, poi c'è anche il discorso ultimo legato alla controversia sugli ufo negli Stati Uniti, però torniamo al nostro libro e adesso lasciamo subito la parola a Giuseppe. Alienima non troppo, guida scettica all'ufologia, quindi in questo titolo e sottotitolo ci sono delle parole chiave, alieni ovviamente, e questo è un po' una suggestione che naturalmente compare nel nostro mente nel momento in cui si cita la parola ufo tutta in maiuscolo o anche con l'iniziale, poi ce la spiegherai, te lo chiederò. Detto questo, il libro io l'ho letto con molto interesse, mi è molto piaciuto appunto per tante cose che poi scopriremo, però la prima domanda che ti volevo fare Giuseppe è perché hai scritto questo libro, che cosa troveremo dentro, io lo so, ma lo spieghiamo ai nostri amici e che cosa non troveremo dentro. Quindi a te la parola, vai tranquillo e raccontiamo 200 anni di ufologia e basta. Anche 300 o 400 volendo. Allora, io ho scritto questo libro perché sì, come è stato detto, sono un pochino, allora, il termine roboante, uno storico dell'ufologia, insomma a me piace la storiografia, piace la storia, quindi l'ho applicata a quest'ambito così, insomma, particolare, specialistico, estremo, se vogliamo. E quindi però ad un certo punto ho sentito l'esigenza di un testo di portata più generale. E dunque una guida all'ufologia ed anche una guida scettica, poi magari vediamo qualcosa su questo scetticismo. Dunque il mio è un libro che si rivolge, diciamo così, con presunzione, ma è per spiegarsi a tutti. Non è un libro per l'appassionato di ufologia. È un libro per la persona di buona cultura, di buona razionalità e di medio interesse nei confronti di un aspetto così particolare della cultura umana che vuole avere dei punti di riferimento importanti, ben precisi, per capire come sono andate le cose. Non ultimo, per rendersi conto di una questione che poi è uno degli assunti centrali di questo mio lavoretto. Gli UFO generalmente, per chi lo sa, si dice che sono nati dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947 negli Stati Uniti, qualcuno li collega il famoso mito dell'UFO precipitato a Roswell nel nuovo Messico. Magari ne parleremo. E di questo magari. Ma in realtà le correnti culturali che sostengono, che hanno sostenuto l'arrivo di questo prodotto dopo la seconda guerra mondiale, vengono da lontano. Sono diverse, sono multiformi e possiamo dire in sostanza che all'origine dell'ufologia, senza andare più all'indietro, ci sono delle idee, forza, delle idee importanti in ambito filosofico, in ambito scientifico, nella storia delle idee, nella storia del pensiero, della ripresa, all'inizio della modernità, del pensiero occultistico in Occidente. Per lui è possibile dire che, insomma, l'idea dell'ufologia prende corpo a cavallo fra il 600 e il 700, in Europa. E prende forma in maniera multiforme, in maniera molto complessa, insomma, ci sono tante cose. C'è ad esempio l'idea dello spazio, senza l'idea di spazio nel senso moderno, quindi con la rivoluzione copernicana, senza la rivoluzione copernicana non ci possono essere dei pianeti distanti, non ci può essere il principio di banalità del nostro pianeta, che è irrilevante sostanzialmente. Manca ancora però molto, manca un'idea moderna di intelligenza extraterrestre che arriverà dopo, ma già se ne vede qualcosa nel 700, quando rinasce il pensiero occultistico in alcuni paesi europei come reazione al razionalismo illuminista. Ma in quel momento nasce ancora, per esempio, con curiose figure come un filosofo e teologo svedese, Emanuel Swedenborg, nasce come reazione all'illuminismo, ma anche come ripresa di correnti culturali precedenti, cioè la magia cinquecentesca, il neoplatonismo, cose di questo genere. Solo più tardi, davvero con la piena modernità con l'Ottocento, ci sono davvero i fondamenti dell'ufologia moderna. L'evoluzionismo, l'idea del volo con delle macchine e l'osservazione più dettagliata dei pianeti più prossimi a noi, in particolare Marte. Dico solo una cosa sull'evoluzionismo, ora dico una sciocchezza tanto per farmi capire, senza Darwin non possiamo avere gli UFO, che vuol dire non che il povero Darwin abbia colpa, insomma responsabilità da questo punto di vista in maniera diretta. Però in ultima analisi, sotto certi profili, gli alieni, gli extraterrestri sono una proiezione di noi stessi nel futuro, sono il nostro futuro. Vi faccio solo un esempio, tutti avrete presente la raffigurazione dell'extraterrestre e dell'alieno con il corpo gracile e la testa molto grossa. A noi sembra una cosa abbastanza ovvia, non è così, questa è una precisa costruzione culturale ottocentesca. L'extraterrestre, il marziano, come poi si chiamerà ad un certo punto, ha la testa grossa perché è una persona che è arrivata alla fine della sua evoluzione, non ha più bisogno di un fisico forte, ma ha tanta testa, ha tanto cervello. Questo però comporta anche delle conseguenze non solo dal punto di vista, diciamo, delle sue capacità tecnico-scientifiche. È anche una persona stanca l'extraterrestre, è una persona che è arrivata alla fine della sua evoluzione. In un certo senso è un degenerato. E questa è un'immagine che vorrei tenere presente perché poi ritornerà, se poi avremo modo di dire qualcosina, qualcosina, avremo in breve sui famosi rapimenti alieni, perché lì in un certo senso ritorna a queste cose. Allora, finisco su questa prima domanda. Vedete quanta roba c'è dentro l'ufologia, quante correnti culturali ci sono dietro. Cioè non è soltanto io ho visto una luce in cielo, ma mi sono sbagliato, era una meteora, era un aereo come succede ogni giorno. È qualcosa di molto più interessante, qualcosa di molto più ampio per l'intera cultura umana a questo punto, dal punto di vista antropologico. Ok, bene, grazie. Mi sentite, sì? Infatti, a parte le considerazioni filosofiche che ovviamente hanno il loro peso, però quello che io ho apprezzato particolarmente nella stesura del libro è proprio la visione storica che tu dai di questo fenomeno dell'ufologia, che è una cosa preziosa per chi si approccia a questo mistero, a questa disciplina, chiamiamola così, d'amblè. Quindi si trova di fronte a un magma, a un calderone di cose che non hanno una sequenza cronologica, un'ordine. Tu le metti in ordine e quindi ve lo consiglio da questo punto di vista perché vi chiarisce molte idee di come il pensiero ufologico, certe cose sono rientrano nel filone, alcuni filoni culturali di cui magari faremo qualche approfondimento. Però siamo qui fra amici e dobbiamo entrare in qualche suggestione ufologica. Le suggestioni ufologiche sono quando nasce, o perlomeno il primo avvistamento ufficialmente, diciamo, storicamente riconosciuto è quello di Kenneth Arnold, poi ci racconterai di più, siamo nel 1947, quindi la letturatura ufologica parte, diciamo, da lì, da questo anno chiave che è il 1947 giugno del 1947. E quindi io quello che ti chiederei, quindi partiamo da questo che è un po' un punto saldo, e di raccontarci il primo avvistamento di Kenneth Arnold e siccome hai introdotto il concetto dell'alieno comunque già nel titolo, ecco, quando Kenneth Arnold avvistò questi dischi, erano più di uno, non era un classico disco volante, erano delle luci che lui vide rimbalzare sulle cime del monte, sì, quindi è anche anomalo rispetto a certi avvistamenti a cui siamo abituati. Ecco, lui già pensò all'alieno, cioè qual era l'atteggiamento di Kenneth Arnold nei confronti di questa cosa che ancora doveva nascere, no? Nasceva in quel momento, lo sappiamo oggi, lui non lo sapeva, però ecco, lui pensava all'alieno, cioè questo binomio era già sviluppato in quel momento storico? Kenneth Arnold è una persona che è stata, diciamo, dagli stori di sellofologia indagata in tutti i modi, è stato rivoltato come un calzino, perché è il papà dei dischi volanti degli UFO, quindi lui ha 32 anni, è uno che ha una piccola ditta di estintori, è un americano che nel 1947 ha già un aereo privato, per cui vola su dei monti della costa occidentale degli Stati Uniti e vede questi nuovi oggetti che sembrano come rimbalzare sull'acqua, si muovono come se rimbalzassero sull'acqua. Arriva a terra e dice a quelli dell'aeroporto, ragazzi, io ho visto sta roba qui, che cosa sono? E da lì comincia tutto, arriva ai giornali e quell'estate del 1947 sarà il primo periodo di mania per i dischi volanti, come si chiamavano allora, solo dopo UFO. Dunque, però Kenneth Arnold in quel momento non pensa agli extraterrestri. In una primissima fase non c'è, non c'è, non c'è, non le sue dichiarazioni e dei documenti che possediamo a questa ipotesi. Lui pensa, quella che è la prima, diciamo, ipotesi prevalente, quello che è il riferimento culturale di fondo, i dischi volanti sono degli aerei strani o dei missili. E come mai sono qui? Sono i nostri o sono quelli degli altri? Cioè vuol dire dei sovietici. Quindi c'è una preoccupazione molto concreta, molto pratica. Non ci sono prevalenti in quel momento idee bizzarre o gli extraterrestri. Gli extraterrestri arriveranno rapidamente, ma non subito, con un processo, appunto. È stato un processo con una palla di neve che rotola. Però diciamo che in questa palla di neve i sassolini di inciampo, più strani, come l'idea degli extraterrestri, e altre molto più strane, c'erano già dall'inizio. Solo che ci vorranno due o tre anni perché esploda questa cosa qui. Quindi gli extraterrestri non si chiamano alieni allora, anche i nomi contano. Gli extraterrestri o i marziani ancora, si chiamano così, arrivano in massa sui giornali come ipotesi interpretativa solo con la seconda ondata di avvistamenti, che si estenderà a tutto il mondo, Italia compresa, nel 1950. E allora lì la gente comincia a dire, ma forse non sono aerei, forse sono questi stranieri, vengono da fuori, hanno delle prestazioni troppo elevate per essere nostri. E da dove possono venire? Eh, vengono allo spazio. Quindi sono gli extraterrestri. Dunque ci sono voluti due o tre anni perché diventasse prevalente un motivo interpretativo che c'era già in nuce, ma che era assolutamente marginale. Però quella marginalità è poi quella che ha prevalso e che ha trasformato questa cosa in un mito di una portata incredibile. Buona parte degli esseri umani oggi crede agli UFO. Io sono sicuro che si potesse fare un'indagine su scala mondiale, sparo dei numeri a caso, ma è tanto per intenderci, un terzo, la metà degli esseri umani direbbe, io ci credo. Sì, anch'io ci credo. Dunque, quindi abbiamo approfondito il tema degli alieni, no? Quindi gli alieni li abbiamo, non dico ovviamente, psicanalizzati, ma... Però, 1947. Kenneth Arnold, primo avvistamento. Quell'anno è un anno particolare per l'ufologia, comunque chiave, perché avviene un altro episodio, che sicuramente conoscete tutti quanti, e sicuramente adesso ne parliamo, che è il famoso crash di Roosevelt, cioè un'astronave aliena, che poi è il binomio classico che ci compare nella nostra mente quando sentiamo la parola UFO, sarebbe atterrata, o meglio non atterrata, ma si sarebbe schiantata al suolo negli Stati Uniti presso Roosevelt. E da lì, facciamo un salto, dal 1947 al 1955, anno in cui appare, e diventa famosa e virale, anche se internet all'epoca non era esistente, l'autopsia dell'alieno. Quindi, ancora una volta, gli alieni, il 1947 anno chiave, c'è un crash, e c'è anche un'autopsia dell'alieno. Quindi, io direi, siccome sono sicuro, qui tanti hanno esperti, tanti sono... Però, non tutti sanno magari qualcosa che ci racconterai, cioè verità, mezze verità, fatti veri rispetto al crash di Roosevelt, e magari anche lo sfruttamento commerciale dell'ufologia, che rappresenta in quel momento particolare storico un punto importante. Allora, sì, dunque, qui veramente vanno fatti le distingue. 1947, a luglio, sui giornali compare sta storia di un disco volante, compare davvero la storia sui giornali locali, di un disco volante precipitato in questa cittadina del Nuovo Messico, dove, peraltro, c'era una importantissima base militare, americana, aerea, insomma, l'unica, diciamo, che aveva lì gli aerei che in quel momento erano in grado di portare le pochissime bombe nucleari di cui disponeva l'unica potenza nucleare al mondo nel momento, cioè gli Stati Uniti. Nessuno, nessuno, in quel momento, pensa agli extraterrestri. Cade un aggeggio e due giorni, meno di 48 ore dopo, dicono, è stato un pallone sonda che è caduto. Ok? Fine. Vediamo il pallone sonda, che cos'è, giusto per dare un... Tutti sanno. Allora, un pallone sonda, i palloni sonda sono stati re delle previsioni meteorologiche fino alla nascita dei satelliti, eccetera, eccetera, perché con quelli si potevano apprezzare, sono dei palloni gonfiati con vari tipi di gas e si usano ancora adesso con il strumento sussidiario nelle previsioni meteorologiche, ci metti un pochino di strumenti, li fai volare a certe quote per certi periodi di tempo, rilievi dei dati, li elabori e hai delle previsioni meteorologiche, naturalmente con dei modelli che allora erano molto, molto, insomma, modesti, però con quello si... Quindi erano usatissimi. In realtà noi sappiamo adesso che lì è caduto veramente un pallone, ma non un pallone sonda. Quel tipo di palloni, come quello che è caduto al rosso, erano dei palloni sperimentali stratosferici di grandi dimensioni, il cui scopo principale era effettivamente quello di ricerche, poi saranno effettuate ricerche sui raggi cosmici di fisica, delle particelle, negli anni 50, anche in Italia saranno usati quei palloni, eccetera, eccetera, ma il problema è un altro, che sotto c'era un'altra cosa, quei palloni servivano per fare voli di ricognizione sull'Unione Sovietica, perché servivano per sniffare l'aria e vedere se c'erano i sottopi radioattivi. È stato uno di questi palloni che alla fine di... No, nell'ottobre del 1949 ha permesso agli americani di capire che due mesi prima, in Siberia, i sovietici avevano fatto scoppiare la prima bomba atomica. Non c'erano nei satelliti, ne c'era una possibilità di ricognizione aerea che è efficace da altissime quote che arriverà poi solo nella seconda metà degli anni Cinquanta. Questo quasi certamente era quello che è caduto a Roswell. Fine. Come vedete, di marziani non parla nessuno. I marziani arrivano, gli extraterrestri, alla fine degli anni Settanta, quando un gruppo di ufologi americani riscopre questa storia e comincia a trovare frammenti di testimonianze, dicerie, voci di ogni genere che si accumulano, si accumulano, si accumulano e diventano presunta evidenza di un fatto tenuto nascosto. Ah, non ci avete detto nulla, ci avete dovuto trovare un pallone, in realtà noi stiamo trovando persone che ricordano cose varie, qualcuno che sa che suo zio, suo nonno, cioè si tratta di un folklore contemporaneo in via di formazione che a partire dal 1978 emerge, grazie a questi ufologi, negli anni Ottanta si accumula e poi esplode ad un certo punto in maniera clamorosa nel 1995 con l'arrivo del filmato dell'autopsia dell'alieno che tutti abbiamo visto. Quando salta poi vi racconto una cosa personale che sanno, io ero, diciamo, nella dirigenza di una piccola associazione, il Centro Italiano Studi Ufologici, che è l'unica associazione italiana di persone che si occupano specificamente di ufo ma che hanno il cervello in testa e io ero uno dei dirigenti e francamente noi intuiamo subito che si trattava di un falso. Questa roba qui era stata acquistata da Ray 2 ed è stata trasmessa in tv. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa a Milano dicendo che la provenienza di queste frammenti di pellicola molto molto sospetta per così dire non ve la sto a contare media. Io sono di quelli che ha ricevuto pesanti minacci legali dall'ufficio legale di chi commercializzava i produttori inglesi di questo video di questi filmati che poi sono diventati videocassette allora c'era quello di grande successo e che poi si sono imposti in tutto il mondo. Ci sono voluti molti anni perché quello che a noi era apparso sufficientemente non solo a noi a molti era apparso sufficientemente chiaro diventasse stampante per ammissione di chi l'aveva fatto. Quella era una cosa realizzata in studio a Londra in maniera anche abbastanza approssimativa. Quindi noi sappiamo adesso benissimo non c'è più nessuno se non qualche squinternato che sostiene la realtà di quella roba. Però questo il mito dell'alieno di Roswell è diventato assolutamente centrale nell'ufologia tanto è vero che io ho detto di Kenneth Arnold no? Allora Kenneth Arnold c'è il primo avvistamento gli ufologi più propensi a credere agli alieni invece considerano la nascita dell'ufologia non con l'avvistamento di Kenneth Arnold il 24 giugno del 47 quindi il compleanno dell'ufologia è il 24 giugno no ci sono due compleanni il compleanno vero dicono quelli che credono agli alieni e quando è caduto il discorso a Roswell il 2 luglio del 47 quindi a seconda di come celebrate il compleanno dell'ufologia siete più o meno diciamo propensi a credere a cose più improbabili per così dire quindi storia molto complessa ma vedete dove si va a parare grazie quindi hai svelato un complotto vero cioè nel senso che il pallone sonda non era un pallone sonda ma era un pallone che conteneva dalla strumentazione tecnologicamente avanzata e ovviamente la forza militare americana non aveva intenzione di divulgare quindi cercò di insabbiare il tutto quindi quello è un caso di vero complotto vorrei fare adesso una digressione nella scienza perché esploriamo i misteri per raccontare la scienza è un motto del CICAP qui siamo in un festival del CICAP e qui abbiamo parlato di alieni abbiamo parlato di tante cose però sarebbe interessante capire quando la scienza entra fa capolino nella storia dell'ufologia e cosa succede perché per citare cerchi nel grano anche lì c'è a un certo punto uno scienziato che dice queste forme nel grano vengono prodotte da dei vortici poi di plasma che invece di salire dal basso verso l'alto come fanno i normali vortici che conosciamo i fenomeni che conosciamo in realtà questi vanno al contrario schiacciano e poi non funziona nessuno l'ha mai visto e le cose non funzionano così però la scienza in queste discipline un po' particolari ha sempre cercato di entrare o comunque i personaggi degli scienziati sono sempre per interesse entrati quindi ti chiedo molto velocemente una mission impossible successi della scienza fallimenti della scienza e lezioni imparate da questo rapporto fra la scienza e l'ufologia io nel libro dedico un paragrafo di un capitolo allo scetticismo allo storia del rapporto fra lo scetticismo e l'ufologia il fenomeno ufo e in fondo è un rapporto abbastanza lineare ma evolutivo si parte negli anni 50 con figure come quelle di un astronomo che allora era molto popolare importante negli Stati Uniti si chiamava Donald Menzel e il modello era quello della comunicazione top down dall'alto verso il basso io sono uno scienziato voi non capite nulla ora vi spiego come che la gente si sbaglia i dischi volanti non esistono sono tutti errori e ve lo spiego grazie di tutto arrivederci come è evidente a chiunque e devo dire che Menzel era anche insomma aveva ragione in tante cose in concreto però il modello comunicativo era fortemente autoritario fortemente tradizionale e probabilmente direi io non per scarsamente efficace a giudicare dei risultati non è servito molto quel modello allora le persone che in seguito di ambito scientifico sono sostanzialmente state degli scettici e qui sto facendo una sintesi estrema hanno abbandonato quel tipo di modello e sono stati definiti spesso degli scettici simpatetici cioè delle persone a cui tutto sommato gli UFO piacciono divertono interessano perché riconoscono che si tratta di un fenomeno sociale culturale psicologico molto importante da cui si possono imparare tante cose ci sono tante questioni controverse ci sono tanti punti oscuri e dunque non un qualcosa da combattere come un nemico della razionalità e così via della scienza ma un ambito da esplorare e quindi anche rispetto al quale mantenere dei buoni rapporti con gli ufologi più ragionevoli molte volte diciamo nei decenni passati si è assistito alla presenza di scettici assolutamente sorridenti in convegni di ufologi non dico degli ufologi più squinternati ma di quelli più ragionevoli perché ci sono gli ufologi ragionevoli come vi ho accennato prima dunque il rapporto è molto cambiato certamente qui la produzione scientifica cioè nel senso ad esempio di articoli pubblicati su riviste scientifiche in senso stretto del termine sugli ufo oggi è abbastanza numeroso abbiamo molte in termini assoluti non è nulla ma molte centinaia di articoli di questo genere quasi esclusivamente nell'ambito delle scienze dell'uomo psicologia sociologia storiografia storia delle idee psicologia tutti gli ambiti che potete pensare perché questo ha prodotto l'ufologia poi ci sono ha prodotto un fenomeno culturale colossale gli scienziati delle scienze art delle scienze della natura delle scienze fisiche sono con qualche rarissima eccessione non gliel'è mai importato granché perché non hanno mai trovato nulla sul quale lavorare in concreto mai dei modelli mai della possibilità di riprodurre dei fenomeni praticamente nessuna possibilità di misurare che fai nonostante questo ci sono stati ci sono degli ambiti diciamo assolutamente marginali dell'ufologia ma che confinano per esempio l'ambito dello studio di certi fenomeni naturali dalla natura e stessa esistenza controversa con i fulmini globulari in cui diciamo degli ambiti si sono quello ufologico e quello della fisica atmosferica nel caso specifico si sono un pochino sfiorate sovrapposte eccetera eccetera in generale quindi scienze umane molto interessate scienze della natura blea cioè distacco e quasi disgusto totale magari forse in qualche caso in maniera forse persino un po' troppo sussiegosa però questa grossomodo bene adesso io ho citato prima tu fai un distinguo nel libro che ho colto la parola ufo scritta tutta in maiuscolo e non l'abbiamo detto perché lo diamo per scontato ma lo diciamo unidentified flying object cioè oggetto volante non identificato per gli italiani anche ovni ovni in francese però tu fai un distinguo la parola scritta in questo modo e la parola scritta solo con la u maiuscola quindi u maiuscola f o piccola ci dici qual è la differenza e poi siccome accennavo proprio all'inizio la controversia sugli ufo in grande ripresa quest'oggi anche dal lato dal punto di vista di quello che accade negli Stati Uniti se ci dai un un highlight un punto del momento allora ufo tutto maiuscolo ufo solo con l'iniziale maiuscolo è semplice e complesso allo stesso tempo mettiamola semplicissimo ufo è una sigla un acronimo ufo vuol dire oggetto volante non identificato cioè non implica in se stessa vorrebbe essere neutro e vabbè una cosa che ho visto in cielo e non so cos'è vabbè che non so ma non c'è niente di così tremendo di antiscientifico invece la versione che ha prevalso è quella sostantivata ufo come parola non come sigla non come acronimo gli ufo sono gli alieni io li chiamo nell'opinione generale no? io uso la forma sostantivata perché è quella che in realtà è quella che oggi è più è piena di significato io potrei anche cercare come dire di blandamente di difendere la dignità dell'ufologia usando la sigla ufo anzi oggi ne usano anche un'altra va bene lasciamo perdere UAP negli ultimi anni si vede circolare quello sono tutti dei tentativi nominalistici di dare dignità a un fenomeno che quasi certamente non ha non ha fondamento scientifico quindi io li chiamo ufo perché quelli sono gli alieni però volevi anche sì sì la controversia ah beh quello ultimi aggiornamenti allora news veramente sta facendo gli ufo negli Stati Uniti da lì come al solito nel mondo è in grande grande ripresa ci sono delle cose che io come appassionato di sta roba qui non avrei mai detto da cinque anni a questa parte negli Stati Uniti si è formata una lobby politica ufologica cioè di appassionati mediatica anche con un piccolissimo nucleo di scienziati che crede agli ufo ma questa gente è come dire dispone è molto più dotata di strumenti comunicativi moderni efficaci e anche potenti e dunque in ultima analisi è riuscita ad agire nei mezzi di comunicazione degli Stati Uniti e ad arrivare ad avere una propria lobby al congresso degli Stati Uniti allora veramente ci dovrebbero tre ore per fare e poi Francesco Grassi mi picchia ve ne dico solo uno il bilancio della difesa degli Stati Uniti del 2022 quello di quest'anno fiscale c'è un paragrafo lungo tre pagine sugli ufo cioè c'è una previsione di spesa senza fondo stabilito dice praticamente dice ai militari vabbè quello che vi serve per indagare sugli ufo che loro chiamano UAP per quei motivi nominalistici di cui vi avevano detto cioè fenomeni aerei anomali sì fenomeni aerei non identificati fate tutto quello che volete spendete tutto quello che volete poi ce lo venite a contare ogni tanto ci venite a contare quello che avete scoperto e ci sono alcuni fra i più importanti politici americani senatori la cui potenza politica noi in Italia non riusciamo neanche a immaginare e attenzione di entrambi i partiti ma mi cito soltanto Marco Rubio che è uno dei capi del partito repubblicano probabilmente se i repubblicani vencessero le prossime elezioni presidenziali diventerà presidente del Senato cioè la terza carica degli Stati Uniti questi sono fissati con gli UFO perché questa lobby è riuscita a fare questo quindi ne vedremo io sto seguendo questa roba qui ma ne vedremo delle belle e forse non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi dove questa lobby sta cominciando a formarsi cose che io solo 5-10 anni fa non avevo detto sì figurate se riescono a fare queste robe qui no ci riescono e in questo forse qualche minimo di preoccupazione ce l'ho ma magari poi lo diciamo dopo ok siamo diciamo ci avviamo verso gli ultimi 10-15 minuti quindi poi ovviamente se ci sono delle domande le raccogliamo alla fine ovviamente immaginate è un argomento così vasto è ormai così consolidato per certe cose che insomma richiederebbe tantissimo tempo e non si riuscirebbe a concludere nulla praticamente però dobbiamo cercare di sintetizzare e quello su cui ti voglio portare è l'ufologia italiana perché l'ufologia insomma gli appassionati dell'ufologia ovviamente è un fenomeno globale è nato negli Stati Uniti sostanzialmente poi tutto il mondo ha visto i vari nascere le varie associazioni ufologiche e i vari ufologi e parliamo dell'ufologia italiana e l'hai già citato parliamo del CISU Centro Italiani Studi Ufologici che ha base a Torino tra l'altro mi piace citare Edoardo Russo il Presidente ha scritto la prefazione del libro di Giuseppe perché l'ha già detto Giuseppe Giuseppe ha collaborato insomma sei all'interno del CISU insomma conosce tutte le persone che avevano il CISU le conosco anch'io nel senso che ho con loro rapporti da tanti anni a livello di fonti per le mie ricerche su cerchi insomma ho trovato degli ottimi riscontri e sono delle persone ovviamente razionali da questo punto di vista però ti chiedo ti chiedo di dirci di commentare un attimo questo rapporto fra il CISU e adesso però collabori attivamente con il CICAP scrivi per query query online cos'è che ti ha spinto cioè cos'è successo non esisteva il CICAP per te adesso esiste il CICAP e attenzione a quello che dici perché siamo in un festival del CICAP parliamo del CICAP allora no io sono iscritto al CISU dal 1988 ho fatto mille cose con questi miei amici insomma sono stato pienamente dentro sono dentro tuttora sono iscritto ma non è che io abbia preso le distanze no c'è una questione di ordine generale teorica cioè l'ufologia migliore che quella fatta da queste persone che ad esempio hanno una capacità di indagine sulle esperienze asservative altissima le indagini che queste persone hanno condotto nel corso dei decenni su avvistamenti casi eccetera eccetera veramente rivaleggiano con le capacità inquisitorie nel senso buono di molti scettici questo sia chiaro io ho imparato moltissimo da questo punto di vista io sono quello che sono lo devo non esclusivamente ma in parte a questa frequentazione tuttavia l'ufologia quella del CISU si è fermata ad un certo punto e come dico io è come se avesse voluto dicere sì l'abbiamo capito che probabilmente non c'è nulla però non si è mai spinto oltre il bar oltre diciamo il bordo dell'abisso del precipizio al contrario io questa è una mia convinzione insomma ho ritenuto che l'ufologia sia in ultima analisi una nei suoi tentativi migliori una pseudoscienza cioè non sia mai riuscita a fare il salto e a diventare qualcosa di più per mille motivi che qui sarebbe troppo lungo da indagare dunque per questo io diciamo sono entrato anche nel CICAP perché la mentalità è propriamente di ordine scientifico e a me quello interessa molto a me interessa che sia promossa una mentalità un approccio alla realtà un approccio alle cose molto pragmatico molto rilassato come quello del CICAP ma allo stesso tempo anche molto netto per conto mio quindi l'ufologia migliore non è riuscita a fare il salto verso la scienza che non è un saltino non è un saltino non è un passo in più è fare un salto oltre passare da un'altra parte dell'approccio alle cose e quindi non ci sono riusciti del tutto e dunque da qui questa mia insomma duplice militanza mettiamola così ok ok bene grazie grazie per questa risposta allora adesso c'è un grande argomentone che ovviamente in due tre minuti cinque minuti non riusciremo a scalfire più di tanto perché tanto insomma dal libro viene fuori molto che lega il fenomeno dell'ufologia ai complotti e le cospirazioni e siccome dal punto di vista di ciò che è avvenuto nella nei fenomeni che anche il CICAP insomma segue da diverso tempo c'è una grande negli ultimi anni un grande contributo a questo tipo di situazione cioè il complottismo in particolare per farla breve in particolare siamo anche coinvolti su un discorso legato a QAnon non so chi di voi conosce questo fenomeno particolare questo sistema di credenze tra l'altro se vi interessa io racconterò qualcosa domani in sala anziani al Palazzo Moloni qui di fronte alle 15 ma non è di questo che vogliamo parlare però tu fai tanti approfondimenti da questo punto di vista citi tante persone e anche qui una mission impossible cioè dacci però un filo che ci fa capire quanto il cospirazionismo il complottismo crea un substrato per l'ufologia fino ai giorni nostri e magari che cosa è ai giorni nostri il complottismo dell'ufologia allora come tante altre cose 1947 c'era già tutto c'era anche il complottismo in una forma semplice però ci sono i rischi volanti perché il governo non ce lo dice e beh perché se sono delle armi segrete sovietiche potentissime o addirittura gli extraterrestri se la gente lo viene a sapere si diffonde il panico il modello è del tipo le autorità devono stare attentissime a quello che dicono perché le persone hanno paura quello che c'è sullo sfondo è il che poi in realtà è un mito in larga misura della famosa radiotrasmissione di Orson Welles nel 1938 l'invasione marziana in realtà non è andata proprio come poi è stata raccontata è stata molto ridimensionata ma è quello il modello che c'è l'idea che la comunicazione la radio e il cinema siano strumenti potentissimi questi hanno visto gli effetti delle grandi dittature del ventesimo secolo quella sovietica e quelle nazifasciste e quindi sono molto preoccupati di queste cose qui però all'inizio è solo una minoranza poi invece oggi si è arrivati quindi l'ufologia non ha al cuore in quel momento e per lungo tempo il complottismo c'è sempre una minoranza sotto che crede a queste cose quello che succede in realtà è che questa roba dalla fine degli anni 80 e poi negli anni 90 invece comincia a crescere e poi alla fine esplode allora probabilmente la prevalenza del complottismo in ufologia è un riflesso è un portato è un sottoprodotto della crescita delle idee complottiste e cospirazioniste fra la popolazione generale di molti paesi oggi però io se dovessi dire ecco io ho sempre ritenuto si può pensare a quello che si vuole ma l'ufologia un hobby abbastanza innocuo cioè insomma una passioncella così non è che non si tratta di dire alla gente che si può guarire dal cancro con la limonata quindi pochissimi danni ora con l'ingresso massiccio delle idee complottistiche con la sovrapposizione fra ambienti degli appassionati ufologia ad altri ambienti cospirazionisti sono un pochino più prudente e più preoccupato per il futuro per gli sviluppi di questa cosa qui staremo a vedere nessuno può dirlo ma come vi ho detto un pochino prima per la lobby politico eccetera sono successe le cose negli ultimi anni in ambito ufologico che io non avrei mai detto non avrei mai previsto dunque prudenza su questi sviluppi osservazione lievemente preoccupata ecco molto bene allora direi che siamo in conclusione cioè adesso cerchiamo di però decidi tu io ti faccio una domanda decidi tu e poi prendiamo eventualmente dal pubblico i contributi perché tu chiudi con ma allora tutto risolto no? questa è la quindi ci vuoi veramente svelare le conclusioni oppure cosa ci vuoi dire raccogliamo le domande allora proprio tutto risolto tutto tutto non lo è lo dico in poche pagine del libro però ci sono delle questioncelle ancora aperte ed interessanti però veramente andrebbero viste nel libro forse la cosa migliore è se avete voglia di fare due chiacchiere di chiedere qualcosa perché avete visto che io sono andato a 360 gradi e sicuramente ne ho dette di tutti i colori perché è una mitologia di questa portata non la riassumi così rapidamente ci sono veramente tante cose se volete chiedete dite quello che vi pare proviamo a fare due chiacchiere più o meno bene allora raccoglierei qualche domanda mi sentite? sì intanto complimenti per un libro eccellente da cui si impara molto e con anche una tesi filosofica forte a me interessa molto l'ufologia come fenomeno culturale mi ha incuriosito il commento sulle lobby americane come si spiega è una strategia perché si sta di andare ad intercettare fette di elettorato oppure ci sono diversi motivi ideologici per cui sia democratici sia repubblicani sono interessati a questo tipo di attività grazie sì come si diceva una volta bella domanda grazie per avermela posta no io non sono per quel poco che posso vedere io non sono del tutto convinto che il tutto si spieghi dicendo questi cercano i voti e dunque si tratta di populismo nel senso più terra terra del termine cioè arrido alle richieste dell'elettorato in modo tale da ottenere consenso ci sarà questa componente ma da quello che io posso vedere dai discorsi dagli scritti dagli interventi di chi è partecipe di questa lobby non l'ultima parte dei politici c'è una ruminazione delle idee che io ritengo sia avvenuta tanto rapidamente quanto in maniera efficace cioè dieci anni fa queste persone questi politici non erano così ma molto rapidamente hanno avuto accesso hanno letto hanno visto hanno sentito eccetera eccetera una grossa quantità di letteratura che hanno fatto propria quindi non è che siano arrivati da loro certo che possono arrivare gli ufologi o gli altri perché avevano sentito che questi avevano qualche simpatia certamente ma questi erano già così dunque c'è un ambito politico americano modesto ma non modestissimo di persone che partecipe di una di una parte o anche di parti abbastanza estreme della mitologia ufologica americana sentivo ad esempio l'altro giorno un deputato repubblicano ci sono anche democratici attenzione comunque un deputato repubblicano che ha presieduto un'audizione aperta sugli ufo alla camera proprio non più tardi di 20 giorni fa sugli ufo né più o meno e questo qui è intervenuto in un podcast americano e ne ha detto di tutti i colori ad esempio che ha sostenuto idee che praticamente sono quelle delle teorie degli antichi alieni cioè quelle secondo cui nel passato sulla terra e non passato remoto sono in qualche modo intervenuti interferire nell'evoluzione delle civiltà umane antiche degli extraterrestri che hanno guidato migliorato e comunque che hanno determinato la storia e magari la stessa evoluzione della nostra razza perché questo è il termine che sovente ricorre e che comunque in americano forse ancora non ha per lunghi bottini dal punto di vista linguistico non ha lo stesso peso che ha in italiano quindi sì io sono convinto che in parte che non tutto si spieghi con il mero opportunismo politico insomma bene grazie c'è qualche altro sì una domanda lì sulla destra tornando a quello che stava dicendo prima e la situazione in Italia ci sono gruppi trasversali politici lobby politiche di chi trattano questo argomento o no? C'è delle domande tanto impertinenti quanto divertenti perché sentite allora in teoria sì nel senso che c'è un'associazione storica dell'ufologia italiana il centro ufologico nazionale che è il suo leader storico e un ufologo che si chiama Roberto Pignotti che da sempre è come dire molto interessata a cercare di effettuare processioni sul mondo politico e raccontavo a qualcuno proprio non più tardi di qualche giorno fa che il primo la prima petizione organizzata dal centro ufologico nazionale al Parlamento per aprire un'indagine ufficiale sugli ufo risale al 1967 e ancora non si sono scocciati di fare petizioni a riguardo allora c'è stato in passato qualche singolo deputato eccetera che ha dimostrato qualche simpatia e qualche interesse ma al momento attuale per questo che posso vedere anche se il mondo politico italiano ci ha riservato sorprese di vario ordine però io non vedo niente del genere cioè non vedo delinearsi un quadro paragonabile a quello statunitense o di altri paesi come il Brasile per esempio staremo a vedere ma no non c'è grazie un'altra domanda a un attimo che arriva il microfono così lo sentiamo sentiamo tutti la domanda volevo solo chiederle se aveva visto il film statunitense Proximity Quale? Proximity del 2020 no l'ho visto ma perché me lo chiede no a proposito dei vari influssi praticamente la trama perché ho capito ci sono gli alieni che vengono apposta a chiedere questa figura di Gesù Cristo che sarebbe legata all'inizio dell'universo eccetera eccetera beh sicuramente nella storia dell'ufologia Gesù è stato interpretato più volte come un extraterrestre non c'è problema è uno normalissimo qual è il problema gli ufo che vengono gli alieni che vengono sulla terra apposta per chiederlo dagli umani lo sai ovviamente effettivamente sono un pochino incerto sulla risposta più o meno non lo sappiamo non lo sappiamo ecco mi pare la risposta corretta non lo sappiamo ci sono molte cose che personalmente non so sicuramente questa è una di quelle prego se posso e volevo chiedere una cosa per quanto riguarda sempre la situazione in america il discorso che lei dice sto iniziando a vedere un futuro un po' preoccupante può essere legato anche a un discorso di tipo militare aumento della spesa militare per giustificare un qualche cosa di sviluppo per la protezione mondiale per la protezione umana contro gli ufo o cose così perché io ho sentito una notizia nella quale appunto dicevano però l'ho sentita così vagamente che nella spesa americana sarebbero state inserite appunto delle risorse per giustificare l'aumento delle spese militari con questo tipo di fine allora diciamo che probabilmente non c'è bisogno di invocare gli alieni e gli ufo in senso stretto diciamo che è possibile intravedere nel bilancio in questo bilancio del 2022 della difesa americana una una maggiore richiesta da parte di alcune agenzie governative americane perché lì c'è poi un intreccio di competenza che fa venire il mal di testa che in ultima analisi significa anche parliamo di quello molto concretamente soldi e posti di lavoro allora se io devo fare come stanno facendo un ufficio congiunto militare intelligence sugli ufo lì ci devo mettere della gente con degli stipendi sembra che ci mettano la testa la testa devono ancora nominarlo un fisico teorico di un certo nome con un discreto numero di pubblicazioni eccetera che viene lavorato in ambito militare largamente nell'ambito della fisica ottica eccetera le capacità dei materiali dal punto di vista ottico quel che posso capire io un ottimo curriculum però questo poi lo pagheranno per fare sta roba qui allora se lui se la sente di fare questa cosa cioè se lui ritiene che non ci sia più una stigma dal punto di vista diciamo della carriera uno dice beh ma come quello se è interessato di ufo e vuole lavorare in ambito universitario e queste cose contano fra l'altro proposito è lo stigma ultimamente e questo è anche una buona cosa le autorità militari americane continuano a dire non se voi personale militare piloti eccetera vedete qualcosa di strano in cielo non abbiate timore di dirlo perché nessuno si deve vergognare nessuno deve pensare che siete gli scemi dei matti eccetera eccetera perché la nostra preoccupazione fondamentale è la sicurezza dello spazio aereo e questa è la preoccupazione di fondo dei militari americani dunque se io vedo una cosa strana in cielo e sono un pilota militare che sta volando ho il dovere di dirlo perché non so che cosa stava volando è assolutamente lineare la dinamica burocratica organizzativa di queste colossali strutture governative americane è tale per cui dentro c'è tutto il contrario di tutto se si va come diciamo noi meridionali a sfruculiare dentro sta roba qui poi veramente trovi quello che ci crede quello che è piazzato in un ufficio in un angolino e ha delle idee bislacche per cui può entrarci dentro di tutto dunque alla fine il bilancio si gonfia e va giustificato c'è qualche altra domanda prego qui davanti buonasera io volevo chiedere se secondo lei ultimamente in questo ultimo periodo la gente sta sostituendo le credenze nella religione con le credenze negli UFO perché molti dicono perché la religione si e gli UFO no perché molti credono cioè io posso credere in una religione non posso credere negli extraterrestri domandine allora bisognerebbe prima di tutto capire se è vero che le persone credono di meno nella religione alla religione la religione tradizionale prevalente in occidente in realtà i cosiddetti processi di secolarizzazione cioè la perdita di rilevanza di significatività per l'individuo della credenza religiosa che è stato uno degli assi portanti della sociologia del buona parte del ventesimo secolo è stata ampiamente rimessa in discussione insomma questi processi di trasformazione delle condizioni religiose sono molto complessi molto meno lineari di quello che insomma si può pensare certo le religioni le condizioni tradizionali in un continente come l'Europa stanno perdendo colpi tutte quante cattoliche protestanti ortodosse eccetera eccetera ma nel resto del mondo in larga misura non è così che gli UFO costituiscano un sostituto della religione un'alternativa è vero per piccolissime minoranze cioè esiste e sono ben studiate a proposito delle letterature scientifiche c'è un gran numero ormai di saggi di articoli sulle nuove religioni ufologiche è una delle cose più studiate ce ne sono però dire che ci sono nel mondo oggi un numero spropositato di adepti di religioni ufologiche di questo non c'è nessuna evidenza diciamo che alcuni assunti di queste nuove religioni ufologiche sono diventate patrimonio comune di moltissimi uomini e donne del mondo però questo non vuol dire che lo prendano così tanto sul serio cioè non è che siccome tutti quanti poi aderiscono in pieno a tutte le credenze che ci sono dentro c'è anche molto di c'è anche una funzione di passatempo ludica di divertimento di queste cose non dimentichiamocelo insomma bene grazie siamo andati ben oltre se c'è una domanda velocissima la prendiamo se no ci salutiamo la domanda velocissima non c'è la faccio io esistono gli alieni scherzando c'è una grande probabilità comunque a parte questo signori il libro è quaderni del CICAP alieni ma non troppo guida scettica all'ufologia veramente consigliato per chi non ha mai approfondito l'argomento leggendo questo capisce che non deve approfondirlo basta basta questo basta questo no a parte gli scherzi c'è veramente tanto da imparare nel seguire nel cercare di proprio capire perché tante cose si imparano come dice Piero Angela ho imparato tante cose sulla scienza più cose sulla scienza indagando le pseudoscienze quindi questo è ovviamente un invito che facciamo come CICAP benvenuti al fest buona persecuzione del fest chi vuole venire domani in San Anziani delle Trepper che o non ci vedremo lì buono spettacolo buona persecuzione grazie e saluti a tutti buona serata e grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.